Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV Controlli. Durante la sagra i carabinieri forestali sequestrano oltre 500 kg di cibo. Chiara Sadotti. Oltre 500 kg di alimenti, tra cui formaggi in sacchetti e pane, in vendita tra gli stand di una sagra paesana, sono stati ritirati dal commercio nello scorso fine settimana a Pieve Santo Stefano. L'operazione dei carabinieri forestali della provincia di Arezzo assieme ai tecnici del Dipartimento di Prevenzione ed Ufficio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Asla Toscana Sud-Est. I controlli sul rispetto delle norme hanno portato i militari ad errorare tre sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro e a ritirare ai fini della distribuzione 221 kg di alimenti da forno, caseari ed insaccati, mentre 346 kg di formaggi ed insaccati sono stati sottoposti a blocco sanitario per verificarne l'origine. In particolare ad un espositore arrivato da fuori Toscana sono state elevate due sanzioni per un totale di 3.500 euro per aver messo in vendita prodotti alimentari senza etichettature e tracciabilità, quindi senza una dichiarata provenienza, e per non aver effettuato le procedure di autocontrollo HCCP come la conservazione in frigo. Ad un altro espositore invece è stata elevata una sanzione da 2.000 euro per non aver effettuato le procedure previste nel manuale di autocontrollo HCCP. Si era finto morto carbonizzato e adesso arriva il sì all'estradizione in Albania, oggi la sentenza della Corte d'Appello di Perugia per il 49enne imprenditore della Valtiberina Davide Pecorelli, che era stato condannato a quattro anni dal Tribunale di Puche lo scorso mese. Pecorelli si era finto morto carbonizzato nel gennaio del 2021 in Albania per poi scomparire e riapparire qualche mese più tardi in Italia, redivivo come naufrago nel mar Tirreno. Gli avvocati annunciano ricorso e padre di quattro figli faremo ricorso, hanno annunciato appunto i due avvocati Andrea Castori e Massimo Brazzi attraverso una nota. Erano destinatari di ordini di carcerazione ma non si erano fatti trovare, sono stati gli agenti della squadra mobile della Questura di Arezzo guidati da Sergio Leo a scovarli e arrestarli. Sono così finiti in carcere due uomini di 46 e 57 anni. Il 46enne dovrà scontare cinque anni e quattro mesi di reclusione per i reati di ricettazione, truffa e falsità materiale. Il 57enne è stato invece condannato in via definitiva per vari furti commessi anche nel territorio di Cavriglia. Dovrà scontare la pena di due anni di reclusione. Adesso apriamo invece una pagina dedicata al mondo della sanità, partendo da questo presidio voluto dalla CISL, dalla funzione pubblica della CISL, di fronte all'ospedale della Gruccia in Valdarno. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Partiamo dall'ospedale della Gruccia perché l'ospedale della Gruccia è un ospedale importante nel territorio e in questo momento in cui c'è una situazione molto grave della sanità pubblica con un problema di risorse, un problema di assunzione di personale, vediamo che gli ospedali del territorio subiscono queste riorganizzazioni, razionalizzazioni, ma poi in realtà diventano tagli e quindi subiscono questi problemi. Curiamo la sanità è lo slogan scelto dalla CISL, questa mattina un presidio della funzione pubblica di fronte all'ospedale Santa Maria alla Gruccia. I rappresentanti sindacali protestano per una situazione che si fa sempre più difficile sia per i lavoratori dell'ospedale che per i servizi offerti. Questo ospedale vede una situazione anche un po' particolare perché io ricordo che noi siamo riusciti ad avere per esempio il primiario della ginecologia dell'ostretrice da poco, siamo stati anni senza niente e questo ha comportato un problema a termini di nascite e poi ci vengono a dire che visto che c'è poche nascite si potrebbero prendere decisioni. Ma questo è un esempio che possiamo anche riportare per altre situazioni, pronto soccorso, medicina, chirurgia eccetera. Quindi questo è un ospedale che dà un servizio a un territorio importante e vasto ai cittadini. Quindi noi qui siamo per, stamani siamo qui accanto ai lavoratori che soffrono ormai da anni e veramente troppo, ma accanto anche a cittadini, vogliamo essere accanto a cittadini per far capire che è il momento veramente di tenere alto l'attenzione al fronte e c'è bisogno di far capire a tutti che questo è un ospedale che non deve assolutamente arretrare. Rimaniamo in tema sanitario ma in questo caso per raccontarvi una bella novità. All'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo arriva una nuova TAC, tra qualche mese ne arriverà un'altra che addirittura lavora con l'intelligenza artificiale, un investimento importante reso possibile anche dai fondi PNRR. Una nuova TAC alle mie spalle, siamo all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo, una macchina altamente performante che usa anche l'intelligenza artificiale. L'esame prima veniva effettuato con una scansione di tutto il corpo all'incirca di 12-13 secondi, adesso il macchinario è molto veloce, la rotazione è molto più veloce, ci aggiriamo per fare un total body a circa 6 secondi di scansione, ovviamente poi ci saranno all'inizio un training tecnico importantissimo che poi ci porterà ad aumentare ovviamente la produttività che dicevamo prima. Che tipo di investimento è stato per l'azienda? Ma è stato un investimento molto importante, sia in termini economici, quasi 500 mila euro, ma anche in termini di organizzazione, in gran parte chiaramente l'investimento subiezionato dai fondi del PNRR, ma i lavori di ristrutturazione sono stati completamente gestiti dall'azienda, quindi un impegno importante anche da parte dell'ufficio tecnico per garantire la contemporaneità di tanti lavori, tanti percorsi, tanti investimenti che in questo momento la nostra azienda sta sostenendo. Adesso inizieranno i lavori per la sostituzione dell'altra TAC e assieme alla TAC del pronto soccorso, anche lei di recente sostituzione, ci permette di garantire un pacchetto di tecnologia per questa tipologia di diagnostica all'avanguardia. Ecco, da un punto di vista della nuova tecnologia, che cosa potrà offrire anche per i tempi di risposta riguardo alle liste di attesa? Ovviamente sono macchine molto performanti, vengono prodotte immagini notevolmente superiori a prima e questo porterà sicuramente a un aumento di produttività di entrambe le macchine, sia questa e della prossima futura TAC che verrà sostituita, e quindi sicuramente per le liste di attesa ci sarà un pochino più di sfogo, soprattutto per i pazienti che non riescono attualmente ancora a trovare un posto all'interno dell'ospedale. In occasione della settimana nazionale dedicata al mal di testa, l'ospedale San Donato di Arezzo promuove l'Open Day Emicrania in collaborazione con la Fondazione Onda ETS che dal 2007 attribuisce il riconoscimento del bollino rosa agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione. Lunedì prossimo 27 maggio l'ospedale di Arezzo offrirà dunque dalle 10 alle 13 un servizio gratuito di consulenza o colloquio telefonico con un medico esperto proprio in cefalei. Per aderire al servizio potete chiamare lo 0575 25 45 95 o 25 52 28. Torniamo a parlare di sindacati. Hanno proclamato lo stato di agitazione CGL Cisle Will. La funzione pubblica è il sindacato CSA per quanto sta accadendo all'interno della provincia di Arezzo, in particolare nel settore viabilità. Se per fare un rifacimento stradale, un tagliamento dell'erba o quello che sono i nostri servizi essenziali nei confronti delle 1300 km di strade provinciali ad esempio o regionali date in gestione prima c'erano X operai che garantivano magari in 3-4 persone l'intervento quindi in sicurezza con quello che prevede il codice della strada rispetto ai cantieri mobili e ora se ne è massimo 2 o 3 o qualche volta capita perché ci è arrivato voce che sono magari da soli qualche volta e ne abbiamo qualche sentore, beh questo è un problema importante. CSA e i sindacati confederali CGL Cisle Will della funzione pubblica hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della provincia di Arezzo. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto. Il settore che soffre di più per un mancato turnover è quello della viabilità. Basti pensare che nel 2002 avevamo 90 cantonieri, 25 capi cantonieri, 10 tecnici questi numeri sono dimezzati del 70% ad oggi e le strade sono rimaste sempre le medesime, sempre i medesimi chilometri aumentando tutti i problemi perché ben consapevoli che se la manutenzione non viene fatta annualmente il degrado aumenta. Vi sentite di lavorare in sicurezza? Assolutamente no perché in determinate situazioni non esiste nemmeno il numero minimo di persone per poter fare un cantiere come è previsto dalla norma. Quindi ci troviamo ad operare in serie difficoltà e a volte siamo anche costretti contro le regole. A dicembre 2023 c'è una nota della provincia dove dichiara che è diminuito il servizio del 56 e qualcosa per cento rispetto al 2002. Ma che è successo? Non è stato sostituito chi andava in pensione? I pensionamenti non sono stati sostituiti, l'età media è abbastanza elevata e quindi ci troviamo in questa situazione. Oggi siamo circa il 30% rispetto a quelli che eravamo nel 2002 che è stato l'anno della riorganizzazione e della ripresa delle competenze sulle strade anche regionali da parte della provincia d'Arezzo. Una situazione però analoga che si registra anche negli altri servizi affermano i sindacati con pesanti disagi che si possono verificare in settori chiave come la scuola dove la provincia è titolare delle strutture scolastiche. Il nostro scopo è quello di manifestare la situazione di enorme difficoltà che c'è nel nostro ente. Per una grandissima carenza di personale che c'è ormai è storica, sta diventando storica perché tutti quanti vanno in pensione e purtroppo non abbiamo la possibilità con il turnover di rimpiazzare queste persone e purtroppo c'è ormai un'impossibilità, si sta verificando un'impossibilità di erogare i servizi ai cittadini e poi anche noi siamo cittadini cioè noi siamo dipendenti ma siamo in primis cittadini quindi anche noi stessi non riusciamo ad usufruire delle strade ben asfaltate che siano in sicurezza e tutto quanto. Quindi ci dispiace che il cittadino possa percepire questa cosa come una responsabilità nostra quando non è così e quindi già questo per noi è un punto di partenza importante. La CGL è in piazza per raccogliere le firme sui quattro quesiti referendari che riguardano il mondo del lavoro. Sono necessarie 500.000 firme ma il nostro obiettivo è di un milione e mezzo di firme per motivi tecnici che molte potrebbero essere annullate perché magari manca qualche dato ma anche perché vogliamo dare un segnale forte. La CGL è in piazza per raccogliere le firme sui quattro referendum sul lavoro che principalmente hanno l'obiettivo di abolire l'intero Job Act. I quattro requisiti sono il primo è per ripristinare la possibilità di un giudice di rimettere al lavoro i lavoratori licenziati ingiustamente dopo il contratto a tutte le crescenti i lavoratori assunti dal 2015 in poi non hanno più questa possibilità. Vogliamo con il secondo quesito portare questa possibilità anche nell'azienda sotto i 15 dipendenti, battaglia storica della CGL. Vogliamo con il terzo quesito mettere un limite a quelli che sono i contratti a termine senza motivo per ritornare un po' come era una volta. L'assunzione normale è a tempo indeterminato e poi se ci sono dei motivi giusti è giusto farli a termine ma non tutta la vita. L'ultimo, anche in virtù di ciò che è successo a Firenze, vorremmo che negli appalti chi dà in appalto o in subappalto sia un po' responsabile di quello che succede in quell'appalto o in subappalto, soprattutto nei temi della sicurezza nel lavoro. Primo perché comunque è giusto che quando succede qualcosa qualcuno se la prenda la responsabilità e se la prenda anche chi ha deciso di dare quel subappalto o quell'appalto a una determinata azienda, magari anche con un massimo ribasso. La raccolta firme andrà avanti da un punto di vista dei presidi fisici fino al mese di giugno ma sarà possibile firmare anche online sul sito della CGL. La giostra del Saracino si dota di un nuovo logo. Nell'ottica di tutelare la tradizione della manifestazione di riunificare sotto un'identità unica e riconoscibile alla sua immagine, l'amministrazione comunale ha appunto deciso di procedere alla creazione di un nuovo marchio che vedete. Il nuovo logo è stato depositato diventando così un marchio registrato, ovviamente unico proprietario è proprio l'ente. Adesso invece apriamo una pagina dedicata a questa domenica 26 maggio perché sono davvero tante le iniziative che la affolleranno. Partiamo da Saione Mob che come sappiamo appunto coinvolge il quartiere di Saione con tante iniziative. Il taglio del nastro sarà alle 10.30 in Piazzetta Rismondo. Sentiamo. Una grande festa per un quartiere che si ritrova comunità. Sì, è il terzo anno e siamo molto soddisfatti, molto contenti. La Confesercenti è sempre presente vicina al quartiere di Saione. Sono tante le istituzioni, i soggetti, la rete di persone che collaborano per questa festa, una festa di quartiere. I negozi saranno aperti, partecipano e contribuiscono con la loro attività anche sulla strada per rendere viva la giornata. Quindi tutta la cittadinanza è invitata a venire, a fare acquisti, a scoprire tutte le attività e l'intrattenimento che ci sarà domenica 26 in Via Vittorio Veneto e nelle strade intorno. Insomma, tutto il quartiere è coinvolto. L'idea di avere ovviamente spazi disponibili per l'attività di inclusione sociale, di animazione, di giochi, di mercato. Diciamo tutto quello che rende una comunità viva, partecipe, coesa e che fa sentire tutti parte di quella comunità. Ecco, questa idea dell'inclusione sociale attiva è per noi l'elemento centrale che ci ha spinto anche a puntare molto sul Sayone Mob e questa terza edizione ci auguriamo sia ancora più grande già dei due precedenti che avevano avuto un grande successo. Sì, siamo alla terza edizione e diciamo che questa comunità educante si fa sempre più grande e inclusiva. Quest'anno il programma è fittissimo, si parte sempre dalla scuola con tante attività di arte, teatro, la partecipazione di Sosta Palmizzi, officine della cultura e letture ad alta voce. Subito accanto quest'anno c'è la grande novità della piazzetta fuori Sayone, piazza alla cultura. Abbiamo, e dico cultura perché abbiamo voluto veramente usare questa parola per intendere un po' quel senso di coltivazione che possono fare tante realtà creative, culturali del territorio partendo anche dal basso ma che poi sono quelle che attivamente fanno in modo insomma che qualcuno poi questa cultura la viva e la porti avanti. Ci saranno i Mago, il Sayone del Libro torna a grande richiesta e The Sound of Zion che è il collettivo dei ragazzi che vivono nel quartiere. Non solo Sayone Mob ma anche i motori di moto e auto storiche per la dodicesima edizione del raduno Città di Arezzo organizzato dalla CNA con il patrocinio e il contributo di enti, associazioni e sponsor. L'appuntamento con piloti e centauri è domenica prossima 26 maggio al parcheggio Atam di Viale Mecenate. Lì ci sarà la registrazione dei partecipanti, poi la prima tappa a Castiglione Fiorentino e quindi nel pomeriggio un giro delle colline aretine che poi si chiuderà di fronte al Duomo con la benedizione finale da parte del Vescovo. Ci sarà anche una sfilata delle maschere del Carnevale dei Figli di Bocco di Castiglione Fibocchi che appunto attenderanno i partecipanti sul Sagrato della Cattedrale. E aprendo la pagina dello sport arriviamo all'altra importante manifestazione che appunto ci sarà sempre domenica 26 maggio, ovvero la 51esima edizione della scalata al Castello, gara podistica internazionale organizzata come sempre dalla polisportiva Policiano. La gara maschile sarà di 10 km, quella femminile di 5, partenza alle 18.30 da Via Crispi. Poi i podisti percorreranno Via Roma, tre quarti di rotonda di Guidomonaco e ancora Via Guidomonaco e Via Garibaldi fino a Piazza Sant'Agostino, Via Margaritone, Via Crispi e Via Roma. Quindi c'è da immaginarsi che tra la scalata al Castello e Saione Mob che come dicevamo interesserà tutta l'asse di Via Vittorio Veneto insomma domenica sarà una giornata davvero off limits per le auto ad Arezzo. Sport e turismo tornano ad abbinarsi nella notte delle stelle del ring. Il gran galà degli sport da combattimento è in programma sabato 8 giugno. Sport e turismo nuovamente insieme nella notte delle stelle del ring. Il gran galà degli sport da combattimento è in programma per sabato 8 giugno allo stadio comunale di Capolona e giunto alla ventotesima edizione andrà a rinnovare uno degli eventi più longevi attesi e partecipati del panorama nazionale. L'evento che unisce due cose, lo sport e il turismo che spesso sono assolutamente abbinate e questo noi teniamo particolarmente allo sport in primis perché è uno degli attivi fondamentali per qualunque società incentivare lo sport e secondo dando un aiuto anche al turismo essendo le presenze trasportate dall'evento in numero abbastanza notevole. L'appuntamento, promosso dal team Iachini con il patrocinio del Comuna di Capolona, vedrà sfidarsi sul ring alcuni dei migliori atleti professionisti di kickboxing dall'Italia e dall'estero che saranno protagonisti di dieci incontri all'insegna dello spettacolo e dell'adrenalina. Sarà l'evento più bello in tutti e 28 eventi che abbiamo fatto sarà assolutamente il più bello, quindi se volete, se vi piace un po' lo sport da combattimento è l'occasione giusta per venire a vedere. Cuore dell'evento previsto dalle 20.30 quando inizierà il vero e proprio gala con un incalzante susseguirsi tra dieci combattimenti. Il match più importante vede per protagonista il 26enne a retino Lorenzo Corsetti che in forza nel team Iachini è forte del titolo di campione italiano conquistato nel 2023 proverà a cercare la definitiva consacrazione. Mi auguro e auguro a loro con tutto il cuore che riescano a portare a casa con le cinture perché se lo meritano prima di tutto come persone e poi ovviamente come atleti. Continua il ciclo di eventi organizzato dal Comitato Orgoglio Amaranto per celebrare i 100 anni di storia dell'Arezzo Calcio dopo la squadra di Cosmi, il faccia a faccia con il presidente Mangio, direttore ai ragazzi di Somma, l'unio di prossimo 27 maggio sarà la volta dei grandi attaccanti del passato che con i loro gol hanno trascinato il Cavallino a vittorie e campionati importanti. L'appuntamento è al Teatro Pietro Aretino di Arezzo alle 21 con ingresso libero e gratuito. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come ogni venerdì con la puntata della piazza dedicata alle elezioni amministrative. Questa sera nel nostro confronto televisivo i candidati sindaco per il comune di San Giovanni Valdarno. Buona visione e grazie per l'ascolta. Arrivederci.